Ecco a voi cari ragazzi il contenuto di vendita di Meizu Metal, andiamo subito a effettuare il nostro classico video unboxing, un terminale davvero molto atteso, quindi bentornati! Andiamo subito dunque ad aprire la confezione cartonato bianco classico di casa Meizu, ecco qua andiamo a spacchettare, subito quando andiamo ad aprire questo box troviamo una simpatica confezione, confezione che è bloccata da una pellicola protettiva, andiamo subito a levarla per vedere in tutto il suo splendore il nostro nuovo smartphone ovvero il Meizu Metal, materiali chiaramente un pochino superiori rispetto a M2 Note, poi insomma lo andremo a vedere con calma all'interno della video recensione, spilletta per andare ad aprire il vano della sim, carica batterie da parete ovviamente non in formato europeo ma grossoshop.net ci metterà in confezione un adattatore, poi troviamo un classico cavo USB, micro USB per andare a ricaricare il nostro device oppure attaccarlo al nostro computer e poi sostanzialmente non troviamo nient'altro all'interno del box di vendita. Obiettivamente un bellissimo terminale, lo scopriremo all'interno della video recensione completa, chiaramente vi aspetta all'interno del box e dei commenti e ci sentiamo come al solito nei prossimi video!